Sono quasi 35 anni che faccio questo lavoro che è cominciato più che altro per caso chiedendo ad una persona che lavorava con Olmi se si poteva collaborare con la sua truppa a un suo film che stava preparando. Questa persona che era un fonico che insegnava alla scuola del cinema che in quel momento stavo frequentando ho detto ma visto che c'è un paio di spalle belle larghe magari vieni. Il film in questione si chiamava Cammina Cammina era il 1980 e da lì poi dopo facendo una linea più che altro trasversale cioè di tutti i ruoli nel 1990 sono riuscito a fare il mio primo film in America che si chiama dove comincia la notte. Adelante Petroleros dal titolo, il titolo è molto ironico, ho voluto dare un titolo ironico del tipo andate avanti così e vediamo dove possiamo arrivare, dove arriveremo fra poco perché quello che cerco di raccontare, io sono andato in Ecuador con un gruppo di amici perché mi aveva incuriosito questo progetto che si chiama Yasuni ITT, ITT è un acronimo di tre città che sono intorno a questo parco nazionale, questo parco nazionale ad altissima biodiversità tuttora, se non che il presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, aveva detto alla comunità internazionale, d'accordo io non scavo, non faccio estrativismo per nessun motivo, però sappiate che sotto questo parco ci sono milioni di dollari di ricchezza che noi non tiriamo fuori, quasi 7 miliardi e 600 milioni di dollari. Se la comunità internazionale mi offre, mi dà, trova la metà di questa cifra e la mettiamo nei fondi dello Stato dell'Ecuador io non darò il via all'estrativismo nel parco. La comunità internazionale ha in parte dato seguito a questa proposta di Rafael Correa ma non è arrivata poi a coprire la cifra, di conseguenza il 15 di agosto di quest'anno, il presidente e il suo governo hanno dichiarato chiusa l'esperienza dell'Ujas Uniti e hanno dato via all'estrativismo. Allora noi siamo andati lì e abbiamo visto con i nostri occhi quello che sta succedendo e io ho cercato di raccontarlo facendo parlare quelli che sono le persone, quindi non c'è una voce fuori campo se non la mia che ogni tanto dà dei punti di riflessione, ma non c'è uno speaker diciamo, ho preferito lasciare la voce a chi invece è interessato a questa storia. Parlare del petrolio in Ecuador e di quello che succederà da qui a poco vuol dire raccontare una metafora di quello che è il mondo oggi, perché l'Equadore sta a 12.000 km da qui ma a 800 km da qua abbiamo la Basilicata. La Basilicata in questo momento è la nostra Libia, una multinazionale come Leni, che oltretutto è una società controllo statale, ha chiesto addirittura di modificare l'articolo 117 della Costituzione italiana per dare il via all'estrativismo nella Val d'Agri in modo che nessuno possa dire niente se stiamo distruggendo l'ambiente. L'articolo 117 della Costituzione sancisce semplicemente che lo Stato attraverso la Regione è l'unico legittimo attore che può dire fate questo, fate quello. In tutto il mondo ci sono delle situazioni che spingono la nostra comunità di uomini, di persone intelligenti ad andare a rotoli semplicemente perché abbiamo bisogno di materie prime che costano oltretutto distruzione e inquinamento mondiale. In Ecuador la situazione è molto delicata perché società tipo la Sherron Texaco sono andate avanti ininterrottamente dal 1974 ad oggi a estrarre petrolio e quindi dal 1974 ad oggi vuol dire che hanno disperso nella zona, quindi nella foresta pluviale, qualcosa come 68 milioni di litri di petrolio. perché un conto è tirarlo fuori il petrolio, un conto è metterlo nei barili però una volta che metti quel petrolio nei barili altro se ne disperde per la zona perché non tutto il petrolio viene controllato. Ma questo non è il più grosso dei problemi, il più grosso dei problemi è che insieme al petrolio esce altro materiale e soprattutto esce acqua e quest'acqua è piena di idrocarburi ma essendo acqua una multinazionale dice l'acqua tanto va al fiume e quindi è dal 1974 che si inquinano le foreste in questo modo. C'è un grosso dibattito in questo momento attorno al fatto della Chevron Texaco ma non è solo la Chevron Texaco ma tutte le multinazionali che operano nel teatro ecuadoriano fra i quali c'è anche chiaramente l'Agip. Se io avesse avuto a disposizione i materiali che ha un giovane oggi chiaramente forse le mie scelte sarebbero state diverse. Quando io ho cominciato c'era la pellicola, c'era lo sgruppo, la stampa quindi c'erano dei costi pazzeschi per quanto riguarda poi l'autonomia e la libertà di espressione di ognuno di noi che cercava di fare questo lavoro. Tant'è che andavamo a lemosinare la pellicola negli studi che a Milano, per esempio sono di Milano, facevano pubblicità, io lavoravo per Bozzetto e da Bozzetto ogni tanto restava qualche ruolo di pellicola e questo ruolo di pellicola ce lo facevamo regalare poi andavamo a lemosinare lo sviluppo della stampa, lo sviluppo gratuito e così riuscivamo a mettere insieme un corto che riusciva in qualche modo ad uscire, a farsi vedere e soprattutto a far notare l'autore perché voleva dire delle cose. Quando poi questi corti venivano bene, allora da lì si passava da un medio e poi da un medio a lungo. La stessa cosa si può fare oggi tranquillamente però tenendo ben presente che la tecnologia di oggi non deve dare isolamento e questa è la cosa a cui io tengo molto a dire. Se molto portati oggi attraverso una piccola telecamera dire vabbè adesso posso raccontare anche io una storia ma non è la tecnica che ti fa diventare regista ma è la tua qualità di narratore che ti fa diventare regista o un narratore cinematografico o autore, tutti possono scrivere, ognuno di noi scrive ma come scrive Stephen King, c'è solo Stephen King per esempio, per dire un autore. stranoto e di grande mercato. Ecco tutto qua, quindi il fatto di non lavorare mai da soli secondo me è fondamentale di essere sempre con qualcuno e di avere un interlocutore al quale appoggiarsi e dire tu cosa ne pensi. Grazie. Grazie.